Onesto sono molto contento che comunque ci sia stato un adattamento dal titolo originale che Rocky Joe l'ultimo round suona un po' meglio di Ashton Joe 2 anche se vabbè comunque per quanto sia un ratopone della seconda parte della seconda serie col gran finale focalizzando l'ultimo capitolo alla fine della serie conclusione chiusura termine epilogo debbo dire che a parte alcune scelte abbastanza strane che ancora oggi mi lasciano relativamente perplesso è obiettivamente una perla a tutto fondo sia anche perché si parla della regia di Osamu non Tezuka ma Dezaki contatto di supervisione all'animazione di Akio Sugino e un'altra pletora di animatori che partono a 3000 sin da subito sparano la linea spartiacque dell'intrattenimento giapponese tutto con un breve sunto dell'epico scontro tra Joe Yabuki e Toru Rikishi dove dopo essersi studiati per un intero round chiudono la loro epica resa dei conti con la sconfitta di Joe ma anche la triste di partita di Rikishi che non ha potuto fisicamente reggere lo scontro col suo storico rivale nonché amico questa perdita getterà in una profondissima depressione Joe che vagabonderà per un anno intero senza meta alla ricerca di se stesso finché un giorno non tornerà alla sua palestra nuovamente pronto a indossare i suoi amati guantoni e lì in poi ci saranno sempre più scontri fino a scalare la vetta arrivando all'effettivo già citato poc'anzi gran finale dove Joe si troverà sul tetto del mondo ma questo oserei dire che è quasi secondario nonostante si tratti del coronamento della carriera pugilistica del buon vecchio Joe del domani l'ultimo round infatti verde tutta la sua attenzione su un lato umano che è ciò che ha reso importante e splendida l'opera di Takamori Chiba non a caso proprio questo aspetto ha insegnato il loro spokon sulla vetta della narrativa giapponese con il loro imperativo assoluto rialzarsi non importa quante volte Joe venga mandato al tappeto in un modo o nell'altro la sua tenacia lo fa tornare in piedi non c'è niente che può tenerlo al tappeto perché il ring è tutta la sua vita e per quanto conosca la sconfitta è qui che Joe Yabuki diventa l'icone immortale senza tempo perché nonostante arrivi da una letterale discarica e continui a perdere anche quel poco che può avere come appunto è successo con la dipartita di Rikishi Joe più cade e più se li mette in piedi incarnando la fiamma inestinguibile dell'indomito spirito umano che fa andare avanti anche se non soprattutto a costo della vita quello che mi è dispiaciuto del film in sé è che purtroppo essendo un lungometraggio deve inserire parecchio materiale e inevitabilmente molto è stato tagliato ma veramente un botto di roba ed è un peccato perché sono stati saltati dei momenti chiave di vitale importanza un esempio tra tutti la morte di Rikishi cioè l'assoluto tracollo che ha comportato a Joe come persona non viene minimamente toccato non viene visto così come una mia preferenza personale a parte il togliere l'anche troppo minutaggio a quella cazzo di scimia che cimpanzè di di Arimao che vaffanculo dare più spazio a Kim Jong-bi il pugile coreano che sopravvisse alla guerra del proprio paese e che erroneamente uccise suo padre cioè non lo so pur essendo appunto un ratopone ci sono parecchi aspetti importanti che vengono lasciati da parte tanto per carità comprensibilmente per scontato che chi guarda conosca già la storia ma è un peccato cioè è un'occasione sprecatissima soprattutto perché adesso riprendo il discorso Kim Jong-bi anzi il nome giapponese Kim Ryuhi c'era tutta la bella sottotrama alla base dell'eterna lotta con la bilancia dei pugili poi lui che fosse abituatissimo al digiuno a causa dell'aver vissuto appunto la guerra e la carestia che ne è conseguita quindi aveva un certo vantaggio sul controllo del peso e Joe che anche solo per poter restare nella sua stessa categoria si è sottoposto a un regime alimentare atto alla disidratazione e digiuno che di lì a poco si sarebbero trasformati in suicidio cioè cosa peraltro accaduta al suo rivale e amico di Kishi che il film non rende idea di quanto fosse smagrito lo stesso Joe si caga addosso nel vederselo arrivare incontro tanto la sua figura fosse spetrale nel perdere oddio quanti erano mi pare 20 chili e passa perché loro due erano di due categorie completamente diverse e Joe tra l'altro pure durante il film lo si vede che non mangia praticamente mai se non tipo 4 popcorn e 2 morse a una mela per mantenere appunto la propria dieta ferrea e nel pieno della sua crisi depressiva nel frattempo per fare un passo indietro e riprendere il periodo subito dopo l'anno di vagabondaggio dopo aver rivisitato la tomba dell'amico Rikishi versandogli ci sopra dell'acqua frizzante perché non è più a dieta povero disgraziato incontra Yoko la signorina Shiraki cui Rikishi era il pugile fiore all'occhiello della palestra poi per quanto possa pensare di essere tornato in realtà il trauma della perdita è comunque troppo profondo in Joe perché riesca a ripartire del tutto ingranando e in tutto ciò la signorina Shiraki riesce a fare l'unica cosa che lo smuove organizza un incontro tra Joe e il pugile venezuelano Carlos Rivera volando in Venezuela convincendone il manager a seguirla in Giappone con lo stesso Carlos che tirerà a Joe una centra estremamente simile a quella che si è presa in faccia dallo stesso Rikishi quando cercò di evadere a cavallo di una mandra di maiali durante un amichevole incontro di Sperring che gli riaccenderà l'intensa passione per la box purtroppo questo buon umore avrà vita breve perché nonostante questo match ufficioso nato a seguito di quello conoscitivo fosse finito a tarallucci, tumefatti e vino sanguinaccio in parità poco dopo il venezuelano affronta una sfida per il titolo di campione del mondo con José Mendoza, il campione in carica che non avrà un ottimo esito dato che lo sfiancante incontro con Joe l'aveva completamente drenato di ogni energia concludendo in tragedia d'altronde i violentissimi colpi che questi atleti debbono sostenere in concomitanza peraltro con i regimi alimentari di un effettivo stato di tortura non aiutano il benessere fisico tant'è che lo stesso Joe incomincia a sua volta ad avere pesanti sintomi della terribile encefalopatia traumatica cronica anche detta sindrome del pugile ubriaco che nel doppiaggio identificano piuttosto analogamente come forma grave di Parkinson doppiaggio che tra l'altro a parte alcune uscite anche lì strane di adattamento che mi hanno lasciato piuttosto perplesso è uno di quei casi in cui io preferisco la versione italiana rispetto all'originale questo perché hanno fatto un lavoro a dir poco meraviglioso partendo da Onorato che è la voce di Rocky Joe ieri, oggi, domani e per sempre dandogli peraltro molta più emotività rispetto all'originale giapponese che è una statua di sale e considerando quanto Joe sia una persona appassionale in tutto è anche più appropriato poi certo c'è da dire che Mendoza doppiato da Jovino famosissima la voce del signor Burns così come il coach Danpei Tang affiancato da Alessandro Rossi che peraltro ha preso parte al Deo Grazias e il doppiaggio di Ken 86 su Rao o Nishi Pannofino Nishi Pannofino che per me sarà per sempre ancora prima di René Ferretti il generale Battingheter e ancora Carlos Rivera che è Massimo De Ambrosi la celeberrima voce di Onizuka in GTA e punta di diamante la signorina Shiraki interpretata da Barbara De Bortoli che fu Mila di Mila e Shiro ma anche Morrigan di Darkstalkers e sono stati tutti davvero magnifici perché il livello è qualcosa di eccelso ma De Bortoli merita una parentesi a sé che giustamente a parte essere il motivo per cui la storia riesce a prendere il via ma anche gli sviluppi a dei picchi emozionali così perfetti cuciti al personaggio a cui sta dando voce che assieme a un rato è boh prendete i master delle registrazioni e dateli in testa ai doppiatori di oggi questo senza neanche prendere in considerazione il culmine nel momento di crisi in cui lei fugge dallo stadio cui Joe sul ring sta disputando il match con José dove entrambi stanno a tirarsi logicamente tante di quei cazzotti in faccia che a una certa li senti pure tu che guardi e a suo modo si rialza anche lei e questo perché? perché l'ultimo round essendo coerente come detto all'inizio si focalizza ok sull'ultimo episodio della serie e per quanto ripeto possegga appunto dei buchi non indifferenti continua a essere una salita infinita che brucia come se non avesse fine ma che non ha nulla da perdere dimostra come Joe sia il più grande portavoce del concetto di rivalsa crescita libertà nonché esempio alla definizione da dizionario di rialzarsi che influenza anche tutti coloro che gli stanno intorno e non importa se per sentirsi vivi bisogna arrivare a impiegare mente e corpo ben oltre i propri limiti perché è questo l'approccio che si deve avere quando si ha uno scopo nella propria esistenza a cui poter dedicare la propria vita pur cadendo cento volte l'importante resta sempre rialzarsene mille e non avere alcun rimpianto ardendo con così tanta intensità che non rimanga più niente da bruciare solo le bianche cenere hey Joe I remember Joe I remember Grazie a tutti.